Vice campione del mondo quindi ha tutte le ragioni per comportarsi in questo modo Zilio mette una pezza a Marinova, un palleggio impossibile e il muro di Mari che prova a guidare la riscossa si gratta la testa a Zeroberto, ormai quando fa così ho capito che non è proprio soddisfattissimo di qualche fede Credo che in questo momento sì, non sarà sicuramente molto soddisfatto del rendimento delle ragazze si aspettava probabilmente una partenza un po' più equilibrata fra le due squadre e si trova adesso a rincorrere una squadra che invece sta andando alla grande però grandissimo muro di Sheila ecco nel momento in cui Sheila si è trovata davanti Jacqueline si conoscono le brasiliane per cui è stato semplice per Sheila fare una scelta chiuderne la diagonale e chiudere per cui il suo attacco preferito Mari, pallone che sarà destinato ad andare in rete evidentemente questa caduta improvvisa è il motivo dell'Ace sì perché questi sono palloni che non hanno una grandissima forza è tra le altre